Musica Bentornate e bentornati con le previsioni a cura di Meteo One. Una blanda depressione proveniente dal Nord Africa si sta spostando verso il Sud Italia apportando moderate precipitazioni solo all'estremo della nostra penisola. Nei prossimi giorni un promontorio di alta pressione ci proteggerà dalle perturbazioni atlantiche riportando il bel tempo sul nostro stivale. Un nuovo peggioramento del tempo lo avremo dal prossimo weekend ma ci ritorneremo nelle prossime puntate. Andiamo a vedere ora il dettaglio, il tempo sulle nostre regioni per martedì 15 novembre. Deboli precipitazioni nella prima parte della giornata sull'arco ionico del Salento con miglioramento nelle ore pomeridiane e sereale. Qualche nube innocua invece l'avremo sulla Basilicata Centro-Settentonale e sulla Puglia Centrale. Più soleggiato sul Foggiano e sul Gargano. Per quanto riguarda le temperature in leggera diminuzione le minime stazionari invece le massime. Venti deboli dai quadranti orientali per quanto riguarda i mari da calmi a poco mossi. Ma ora passiamo al nostro consueto appuntamento con la foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore Giovanni De Tommaso per questo scatto di magnifici ed eleganti esemplari di fenigotteri che stanno spopolando sulla Salina dei Monaci a Torre Colimena nel Salento. Se volete inviare la vostra foto del giorno vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine di Facebook, di MeteoOne e Teleappola oppure alle email che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.